Buonasera dagli studi di Teleregione. Questa puntata di Conto alla Rovescia, il nostro programma di approfondimento, è quasi interamente dedicata al nuovo corso al Comune di Isernia. Abbiamo come ospiti in studio, partendo dalla mia destra, l'Avvocato Raimondo Fabrizio, che in assoluto è il consigliere comunale più votato nell'ultima tornata elettorale, l'ex Presidente della Regione, Michele Iorio, e il nuovo Sindaco di Isernia, Piero Castrataro. Prima del giro di interventi, io pregherei gli ospiti di seguire questa brevissima dichiarazione, rilasciata a Pierluigi Boragine, questa mattina da Donato Toma, con l'attuale Governatore del Molise, che in qualche modo si ripropone in vista del voto per le regionali. Ascoltiamolo. Qual è lo stato di salute del centrodestra molisano dopo la scoppola rimediata Isernia, scoppola giunta al termine di una campagna elettorale in cui sono volati gli stracci, Toma contro Iorio, Pallante contro Di Sandro, Isernia a terreno di scontro, di Beghe tutte politiche che riguardano la Regione e che potrebbero condizionare pesantemente le regionali in programma nella primavera del 2023. Nel rispondere alla domanda qual è lo stato di salute del centrodestra, il Presidente della Regione, Donato Toma, auspica la coesione della coalizione e rivendica la possibilità di essere ricandidato. Lo deve chiedere ai partiti del centrodestra, io mi auspico che la prossima settimana si siedano a un tavolo i partiti, i movimenti, quelli che hanno contribuito alla vittoria in Regione del centrodestra. Non dimenticatevi che il centrodestra ha vinto con Donato Toma che era in interfaccia e non dimenticatevi che io ho fatto 2000 voti in più rispetto alle liste, i calcoli ogni tanto vanno ricordati. Io mi auspico che il centrodestra si sieda ad un tavolo, se sarò invitato parteciperò, io non sono uno che mette i veti in politica assolutamente e che ragioni sulla opportunità di andare molto più coesi, anzi di essere coesi per le prossime elezioni regionali, indipendentemente da chi sarà il candidato presidente. Non è detto che non sia io. Ed allora, girerei subito la parola al dottor Michele Iorio. Donato Toma vuol ricandidarsi. È la prima volta che ufficialmente dichiara di volersi ricandidare. Ci sono i presupposti a suo avviso? Non sarò io a decidere. Trovo strano questa uscita, perché Toma è abituato a fare delle uscite di questo dito, di questo genere, sapendo benissimo che l'indomani le può smentire o al contrario affermare cose diverse da quelle che ha affermato prima. È una sua abitudine costante, quindi non mi sorprende. Però è un suo diritto chiedere ai partiti una scelta anche un anno e mezzo prima, circa un anno e qualche mese prima. Vedremo se i partiti risponderanno positivamente, insomma, ci regoleremo. Avvocato, ci sono i presupposti per un Toma bis a suo avviso? Attualmente spero di no, perché lo spero con tutto il cuore, perché se poi i risultati sono come quelli del Comune di Sernia, mi auguro con tutto il cuore che i presupposti non ci sono. I presupposti potrebbero esserci solo se ognuno prende atto della sconfitta sonora che c'è stata a Sernia, ma non solo, c'è stata a Campobasso e c'è stata anche ad Agnone. Ognuno fa un passo indietro e si pensa effettivamente cosa ha la volontà soprattutto degli elettori e qual è il bene per, in questo caso, per la regione. Perché continuando così con personalismi e lotte fratricide, io ve la vedo, non dura, ma durissima per una riaffermazione del centro-destra nella regione molise. Quindi spero e mi auguro con tutto il cuore che da questa sconfitta si inizi una vera e propria ricostruzione. Ricostruzione anche con persone nuove, persone giovani, e ci sia un ringiovanimento da parte di tutto il centro-destra e che tutti i leader che ci sono stati finora ci diano una mano per crescere e per far sì che la regione abbia anche qualcosa di nuovo. Sindaco Castrataro, il centro-destra è lacerato. Questo in qualche modo ha favorito la sua scalata a Palazzo San Francesco, è innegabile? Ma assolutamente sì, chiaramente tra le varie congiunzioni astrali che si sono verificate, e questa è una delle più importanti. Credo che però, come diceva Raimondo, Fabrizio, paradossalmente, anche se non dovrei commentare in casa da altri, posso tranquillamente dire che i momenti di crisi sono anche i momenti in cui si riflette per ripartire. Una politica anche nel centro-destra debole non aiuta assolutamente la regione. A disegna questo è stato palese, è stato palese il fatto che non si è discusso di programmi e anche probabilmente le candidature che sono state fatte sono state candidature che guardavano al passato. Non c'è stato quel coraggio di iniziare anche nell'altro campo una stagione diversa, soprattutto considerando il fatto che il governo Toma, sotto gli occhi di tutti, è un governo che pecca da tantissimi punti di vista, dalla gestione del Covid, alla situazione economica, all'incapacità di dare una missione al Molise, che è un problema che va oltre anche gli schieramenti, e credo che sia la vera sfida che la politica molisana deve affrontare. Se questa sconfitta anche per loro diventa un momento di riflessione per capire che cosa fare da qui a vent'anni in questa regione piccola e che potrebbe essere governata molto bene, credo che ne gioverà la politica tutta. Come ho ribadito anche nel discorso della proclamazione, io non amo le divisioni, se c'è da condividere in alcuni casi delle politiche che vanno oltre i personalismi, le sfide e le lotte di potere, questo lo farò sempre, lo farò anche in comune, ho detto tranquillamente anche alla minoranza che ci sarà piena collaborazione su alcuni temi, a maggior ragione che soprattutto sui fondi del PNRR, che stabiliranno su alcune tematiche degli investimenti di lungo periodo, ci sarà un coinvolgimento. Mi sembra giusto perché come sindaco di tutta la città di Sernia devo alla città anche la voglia di voler stabilire un ponte per il futuro che non è di una parte ma è di un'intera comunità. Senatore, il coraggio cui faceva riferimento Castrataro forse in questa tornata avrebbero avuto il volto e il nome di Raimondo Fabrizio, ha però pagato forse una politica eccessivamente aggressiva in seno al Consiglio regionale, al Consiglio comunale. Beh sì, c'è stata una legislatura strana, proveniva da una disputa tutta interna al centro-destra, c'è stato il ballottaggio tra due schieramenti che si riferivano comunque al centro-destra, quindi una qualche difficoltà di governare quella situazione c'è stata. Il sindaco, devo dire, non è stato poi sempre sereno nel valutare le migliori opportunità che poteva avere da questa situazione, cioè quella di ricucire politicamente quello strappo piuttosto che a ricercare il bilancino per determinare questa o quella soluzione. E quindi abbiamo avuto delle anomalie politiche che si sono riverberate anche negativamente nei confronti dell'attività amministrativa. Ora la situazione del centro-destra è diversa, io concordo con Raimondo Fabrizio, c'è bisogno di fare una serena riflessione senza accredine, ma con la determinazione di chi sa che la parola unità non è una parola vuota. Non si crea l'unità per decreto, l'unità si crea sulla condivisione dei metodi e dei programmi politici, altrimenti diventa veramente vuota e diventa pericolosa. Io mi iscrivo tra quelli che ritengono, posso sbagliare ma ne sono abbastanza convinto, che se il centro-destra con il metodo che ha utilizzato a Isernia per la formazione delle liste e dell'indicazione del sindaco, avesse raggiunto l'unità per decreto o per decisione suprema, avremmo perso ancora di più la battaglia politica che abbiamo perso al ballottaggio. Anche perché, ripeto, su alcune questioni non si può far finta di niente. Ho sentito parlare, giustamente diceva Castrataro, la questione del Covid, io non potrò mai perdonare politicamente a Toma la gestione del Covid, è stata negativa. Come non farò un passo indietro sul POS che non doveva firmare e che ha firmato? La distruzione degli ospedali di Termoli è larino, sia pure rinviata nel tempo. E non scuserò mai un centro-destra che è nato per realizzare l'autostrada che aveva affossato frattura e poi si è ridotto a dire quattro corsiglie, una cosa generica pur di non offendere il governo precedente perché intanto era stata scelta come responsabile in primis dell'amministrazione la segretaria di frattura, cioè la dottoressa Mogavero. Lei a Toma aveva chiesto discontinuità? Aveva chiesto discontinuità non solo, ma lui l'ha affermato in campagna elettorale che avrebbe attuato la discontinuità e anche per l'autostrada che si sarebbe mosso per riprendere il discorso della società che poteva anche non essere liquidata ancora, stava ancora in corso di liquidazione, quindi si poteva utilizzare un decreto legge a firma di Di Pietro che dava al Molise la potestà e la possibilità di essere proprietari a metà insieme all'ANAS di un project financing per la realizzazione dell'autostrada. Ma comunque su questo c'è da discutere. Sulla situazione imprenditoriale, industriale, la crisi del Molise ormai è una crisi paurosa, noi abbiamo disoccupazione incompente, abbiamo cassi integrati per mestiere perché ormai sono 8, 9 o 10 anni che sono in cassa integrata alcuni lavoratori, mi riferisco sia all'ex ITR e sia all'Arena, Gamma, insomma, e allo zuccherificio. Però i suoi detrattori ritengono che comunque la crisi di queste aziende nascano con Michele Iorio. Questa è la teoria di Donato Toma, il quale fra poco risalirà allo statuto Albertino per non addossarsi nessuna responsabilità, per dire che tutto proviene da prima. Quando c'ero io lavoravano 700 persone a Isernia, 600 persone a Boiano e 150 solo di lavoratori diretti o 200 allo zuccherificio di Termoli. Dopo è successo il disastro in tutte e tre le condizioni. Abbiamo perso le tre filiere principali su cui poggiava il 50% delle attività produttive della Regione, anche delle industrie collaterali, dell'indotto, chiamiamolo così. E ditemi se questo è un risultato positivo. C'è stata un'area di crisi complessa che è uno strumento straordinario per poter riprendere un discorso di reindustrializzazione e favorire le imprese, non se ne è insediata nessuna e non si è sistemato con le politiche attive del lavoro nessun lavoratore disoccupato o in cassa integrazione. Quindi, insomma, ditemi se si può condividere questa politica oppure non è il caso di mettere i puntini sulle I e poi, a prescindere di chi sarà, creare le condizioni perché ci sia un cambiamento di metodi e di programmi e allora credo che il centro-destra potrà competere. Senza presunzione, ma potrà competere. Avvocato, diceva il senatore Iorio, anche con l'unità di tutto il centro-destra saremmo stati spazzati via sui Sernia. È convinto di questa teoria? Probabilmente questo al ballottaggio... Di quella fine dei metodi, insomma. Al ballottaggio sarebbe, anche se ci fosse stato, diciamo, l'apparentamento cosiddetto formale, sicuramente ci sarebbe stata la stessa. In una fase preliminare? La fase preliminare, sicuramente, se andavano tutti uniti, il risultato poteva essere diverso. Anche perché poi, se sommiamo i voti che ha preso il centro-destra, i due candidati assente del centro-destra, arriviamo quasi al 67-68%. Ma chi e perché ha sbarrato la strada a Raimondo Fabrizio? Io l'ho sempre detto, l'ho dichiarato anche negli ultimi giorni, sono stato colpito da un fuoco amico. Però poteva essere più diplomatico, lei, in consiglio. È stato sempre molto aggressivo nei toni utilizzati, nei confronti del centro-destra. Quando fai opposizione sulle minoranze, soprattutto su determinati temi, e vedi che comunque c'è un'amministrazione che non cammina così come dovrebbe, pur essendo di un'altra parte del centro-destra, se c'è qualcosa che non va, io non posso essere presente. Tanto è vero che poi i cittadini me ne hanno dato conferma eleggendomi con numerosi voti. Quindi questa è una soddisfazione personale, significa che la cittadinanza ha preso per buono ciò che ho connesso. Il centro-destra è l'unico vincitore, oltre a chi dice che senza Iori il centro-destra ha perso le elezioni. La vittoria di Pirro. Una vittoria di Pirro che sicuramente non mi interessa. È emerso anche qui che ancora si... Un centro-destra che ancora pensa al passato, che un centro-destra ancora recrimina cosa ha fatto l'uno e cosa ha fatto l'altro. Beh, come diceva il Presidente, più che punti sull'Io direi di mettere un punto e andare a capo. Più che andare a capo, volterei proprio pagina per iniziare un nuovo percorso. E come diceva anche il neosindaco di Serna, per iniziare una programmazione completamente diversa rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi, perché i cittadini si sono resi conto che queste guerre, questi personalismi e questi veti, quello che dispiace di più, soprattutto quando... Ai tavoli del centro-destra, soprattutto quello romano e quello locale, sono stati messi dei veti da parte di alcuni personaggi che poi alla fine ne essi sono candidati oppure, pur essendosi candidati, hanno avuto uno scarso risultato. Quindi questo diciamo... Ingegnere, si parlava di programmazione. Lei ha iniziato a programmare? Allora, io ho iniziato a guardare tante cose all'interno del Comune e chiaramente c'è una questione di difficoltà della macchina amministrativa, perché il personale è un personale con poche unità. Purtroppo non è... Quindi va aumentato sicuramente, una mano ce la dà un pochino il PNRR e ora, proprio oggi, vedevo che arriveranno tre figure nuove a tempo determinato, che sono, diciamo, a budget dello Stato, dall'Agenzia Nazionale della Coesione, quindi nel giro di pochi mesi avremo tre unità nuove, perché dovremo gestire questi fondi, non basteranno. E la cosa che ho notato è effettivamente che manca, è mancata negli anni scorsi una programmazione che tenesse insieme, diciamo, le unità principali, che poi sono, diciamo, l'ufficio tecnico, la parte tecnica del Comune e la parte finanze. E questo scollamento ha determinato notevoli frizioni. Credo che questa è una frattura che si può ricomporre tranquillamente, teniamo conto che chiaramente la finanza, insomma, la parte di ragioneria è quella che dà la benzina e il motore, poi quello che effettivamente fa muovere la macchina, ma anche gli investimenti pubblici, è l'ufficio tecnico. Sono problemi risolvibili, ci vuole il coraggio di tutti, bisogna fare ognuno un passo indietro, guardare l'obiettivo comune, e quindi si possono superare. La cosa interessante è che sia ora, in questo momento, ci sono numerosi finanziamenti attivi, ne arriveranno altri, e quindi avere la capacità di avere nel breve periodo comunque persone a tempo determinato che possano aiutare in questa fase, ma programmare già nei prossimi 5 anni le assunzioni che devono essere fatte per un ente che, lo ricordavo anche qualche giorno fa, è passato da 210 unità circa nel 2002 a 95, quindi con un più che dimezzamento del numero di personale e chiaramente questo è andato a svantaggio del funzionamento normale, per cui dal punto di vista politico ci si ritrova con una gestione che ancora non cammina da sola e che non dovrebbe dipendere assolutamente dalla politica e in procinto di avviare anche una fase straordinaria di investimenti e per cui dobbiamo essere bravi a intercettarli, a fare i progetti definitivi ed essere sicuri che poi vengono implementati nel minor tempo possibile. Senta, ha già iniziato a pensare all'aggiunta? Qualche indiscrezione? Pensare non è che solo ci penso, diciamo che non ci trovo. Non ci ha dormito, sì. Questa è un'altra storia. No, a parte le battute, è chiaro che ora io ho abbastanza fretta, l'ho anche detto ai movimenti civici che mi hanno sostenuto, alle liste, di chiudere la partita nel più breve tempo possibile, proprio perché c'è la necessità... Che scadenza si è data? Ma io spero che inizio prossimo settimana la giunta è fatta e che quindi nella fine della prossima settimana, giovedì, venerdì, al massimo lunedì, andare in consiglio ed essere tranquilli, diciamo, di iniziare un percorso importante, un percorso che ci porterà a gestire per bene, diciamo, la macchina amministrativa. A quanti assessori sta pensando? No, queste sono domande che chiaramente a cui non voglio, non posso rispondere. Sarà un numero adeguato, non sarà un numero piccolissimo perché ritengo che con tutto il lavoro che c'è da fare c'è la necessità di avere delle persone che seguano i vari settori, quindi poi qui ci sono le varie teorie, giunta lunga, giunta corta, questa è una cosa che sceglieremo assieme agli alleati. E esterni? È possibile che ci sia qualche figura esterna, non saranno assolutamente tante, potrebbero essere pochissime, però è una cosa probabile. Senatore, lei con che giunta partirebbe? Con una giunta... Larga o stretta? No, non larghissima, cioè non occupare tutti gli spazi perché la prudenza di una gestione di una maggioranza comunale è abbastanza difficile da tenere, insomma, nel senso che, diciamolo francamente, a livello comunale non c'è l'indennità che ti tiene legata alla sedia, quindi lì vale la capacità del sindaco di tenere tutti impegnati in progetti, idee, iniziative. Ma da Pollonio ha avuto questa capacità? Beh, insomma, forse inizialmente sì, poi credo si sia perso un po' per strada, insomma. Senta, ma se la primo genitura di da Pollonio è di Michele Iorio, se Iorio ha sempre dichiarato nei sei anni di da Pollonio non voglio staccare la spina, perché alla fine il sindaco sciente ha sbattuto i pugni sul tavolo? Contro Iorio e di Sandro? Lo dovrebbe chiedere a lui, però, insomma, mi piacerebbe la risposta da parte sua, perché io penso che l'agitazione di quel momento, anche l'enfasi con la quale... Anzi, prego la regia di preparare il contributo così lo rivediamo insieme. Con la quale ha dichiarato alcune cose terribili nei miei confronti, fino a definire cartello politico come fossimo in Colombia, il mio gruppo insieme per il Molise con cui è nata quell'amministrazione, beh, insomma, credo che sia venuto fuori dalla rabbia, la rabbia di non essere stato ricandidato, tutto lì. Io ho anche detto in più occasioni che il famoso tavolo al quale non ho mai partecipato, il tavolo di centrodestra, la prima cosa che ha fatto prima di partire ha escluso la ricandidatura del sindaco, quindi, insomma, è escluso nel senso che non c'era racconto. La Lega aveva posto un veto sulla persona di Dapollonio. Non c'era più della Lega, insomma, non c'era assolutamente accordo unanime su quella proposta. Ed anche all'interno della sua squadra di governo c'era... Ma, insomma, si sono candidati tutti, insomma, credo che... si sono candidati tutti senza il sindaco, insomma, non lo so, attribuisce pure a me questa responsabilità. Senta, ma Iorio da solo con Dapollonio avrebbe preso più o meno del 15%, più o meno di tedeschi? No, vabbè, questo non lo so, questo bisognerebbe... ci vuole la palla di vetro per dare una risposta del genere. Non lo so, io penso che... vabbè, ma comunque, io capisco lo sfogo perché capisco l'amarezza del momento, ma insomma, purtroppo in amministrazione è così, insomma, se non ci sono, diciamo, disponibilità a riproporti, evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. In estrema sintesi vi dice, pago perché ho sempre avuto la schiena dritta. Ma non è vero, perché la schiena dritta l'hanno avuto pure quelli che non hanno pagato, insomma, non è che devi pagare per avere la schiena dritta. Io, peraltro, guardi, posso avere testimoni sulla politica comunale, non ho mai... ha detto lui stesso che mi sono occupato solo della regione, come se poi la regione non avesse nessuna valenza per la politica comunale. Mi sono adombrato una sola volta, in una sola occasione, sul piano Covid, perché noi sostenevamo, io sostenevo Larino. La maggioranza, la stragrande maggioranza dei sindaci, oltre al sindaco di Larino, sostenevano Larino. Il Consiglio regionale, a maggioranza, addirittura con il voto di Toma, sosteneva la soluzione Larino. I medici, i sindacati, tutti i comitati dei vari ospedali, sostenevano la soluzione del Covid a Larino. Il sindaco di Sernia, invece, si è posto il problema dei finanziamenti che vorrebbero tolti a di Sernia. Io credo che sia una scusa... Sì, lui ha detto non avrei firmato a scatola chiusa e soprattutto temendo... Ma a scatola chiusa dice che centravano i finanziamenti della sanità. Quello erano finanziamenti Covid, lo dice il decreto, quindi... Lei questo ha visto come un affronto? Un affronto mi sono sentito lasciato scoperto politicamente da un sindaco che tutto sommato avevo sostenuto e ho continuato a sostenerlo perché mi sono sempre opposto fino all'ultimo giorno per evitare lo scioglimento, che ritengo sia un trauma che un'amministrazione dovrebbe risparmiarsi sempre, a prescindere. E quindi sono stato coerente e corretto fino all'ultimo giorno. Poi che cosa passava nella mente del sindaco saranno a fare i suoi. Avvocato, lei che idea si è fatto dello sfogo di D'Apolloni? Pure io... Anch'io... Ha un po' sorpreso tutti, no? Sì, sì, anche perché per cinque anni e mezzo non l'ho mai visto così, quindi probabilmente era uno sfogo di amarezza. Sicuramente era rivolto alla sua parte politica, o meglio quella parte politica che l'ha sostenuto, perché io non mi sento proprio tirato in causa, perché probabilmente non l'ho sostenuto al primo giorno e non avevo votato mai un atto che non facesse, o secondo me non andasse per una visione della città. Quindi sinceramente io ho visto che con grande amarezza lui si è sfogato, se l'è preso un po' con tutti quanti, però secondo me sbagliato, perché la politica è così e penso che se lui ritieneva e ormai è tardi, poteva comunque ricandidarsi con una lista propria e gli assessori che anche secondo lui bene hanno fatto si candidavano con lui e probabilmente a questo punto era rieletto. è troppo facile parlare con i secoli ma non si va da nessuna parte, se lui aveva tutte le intenzioni poteva fare tranquillamente. Io ho partecipato a qualche tavolo pre-elettorale però il suo nome non è uscito da nessuno, soprattutto dai movimenti a lui vicini, quindi non vedo come il partito per esempio di Forza Italia che è stato sempre in minoranza potesse fare il nome del sindaco scende. Ed allora, se la regia ha pronto il contributo rivediamo insieme lo sfogo di D'Apollonio. Doveva essere una conferenza di fine mandato, si è trasformato in un redderazione. Vediamo il contributo. Nulli, non esistono i rapporti con Fido D'Adi Sandro. Io lo ringrazierò sempre perché è stato effettivamente la prima persona che fece il mio nome quando io uscii pubblicamente sulla stampa cinque anni fa, io lo ringrazio ancora oggi, ma Fido D'Adi Sandro come Michele Orio io non l'ho visto e non l'ho sentito più. Neanche dire, scusa sindaco, tu sei in carica, cosa intenzioni, stai completando il tuo mandato, cosa intenzioni di fare? Immaginate per un attimo un uomo che cammina a Claudicante lungo un sentiero polveroso. Il percorso è irto di insidie, eppure lui caparbiamente decide di andare avanti anche con discreti risultati. Ad un certo punto le stesse persone che lo hanno spinto ad intraprendere il cammino impongono al viandante di interrompere la marcia, ed allora lui si ferma appoggiandosi al muro, si slaccia le scarpe, le sfila e lascia cadere tutti i sassolini che gli impedivano di camminare normalmente. Questo viandante ha il volto di Giacomo D'Apollonia, che oggi ha trasformato la conferenza stampa di fine mandato in un atto d'accusa durissimo nei confronti di chi, per sei anni, gli avrebbe impedito di governare serenamente. Michele Eorio è uno degli esponenti politici di questa città, di quest'area territoriale che secondo me non ha oculatamente ponderato il futuro della città spendendo tutto quello che poteva su una nuova amministrazione. Ho visto che lui è concentrato molto sulla questione regionale, sui progetti regionali, ben vengano, lui può avere tutte le ragioni di questo mondo, ma secondo me questo fatto ha ostacolato, anzi ha impedito una scelta serena, una valutazione serena della situazione che riguardava i segni. Non poteva mancare un riferimento alla debattia del centro-destra al ballottaggio. Due sconfitti dalla precedente elezione sono stati riproposti, insomma, devo dire le scelte sono state dissennate, devo dire poco credibili e non accettate dei cittadini. Che il centro-destra perdeva queste elezioni si è visto subito, l'abbiamo capito tutti dopo la prima tornata elettorale, lì quella è stata lista forti, ma poco accompagnata dal consenso per il candidato sindaco. Questo è stato il risultato. Io ho fatto la mia parte all'epoca, io ho trascinato all'epoca le liste e poi a ballottaggio sempre con il povero Merogli, che comunque bisogna ringraziare per la disponibilità e per l'impegno come salvatore della patria, il tentativo che ha fatto, anche con Merogli, anche io nel primo cinque anni fa vinsi con il 50% del 50%. Da Iorio e di Sandro, ovvero da coloro che lo coinvolse nei sei anni or sono, si sarebbe aspettato quantomeno una telefonata. Mi hanno fatto molto arrabbiare, soprattutto per il mancato rispetto per il lavoro fatto, non solo delle persone, che sarebbe la prima cosa, ma anche per l'impegno del lavoro fatto in nome di questo centro-destra, ma non essere considerati neanche come amministrazione uscente, come amministrazione in carico, come si fa dappertutto, dove si chiede cosa vuole fare l'amministrazione uscente, che intenzioni ha il sindaco uscente di ricandidarsi o non ricandidarsi, avere anche un ringraziamento per l'impegno profuso, evidentemente non è interessato a nessuno. Sicuramente io sono scomodo, perché io non faccio favore a nessuno, non faccio parte del carazione politico, non vado a sedermi nei salotti politici, credo che nessuno di voi mi ha visto frequentare. Io ho fatto e questo l'ho voluto mettere in chiaro, lo dovevano capire anche i politici di questa città, io ho fatto istituzionalmente il sindaco della città di Serni, ho difeso i valori dell'ente, ho difeso l'ente e gli interessi di ogni singolo cittadino, il resto non me ne è, scusate il termine fregato, niente. Ma da Polonio punta il dito anche contro la politica regionale, perché i suoi appelli sono puntualmente caduti nel voto. Noi siamo considerati una pessima amministrazione per la cattiva pubblicità che questi signori, che dovrebbero essere i nostri cugini, i nostri parenti, non so che cosa sono. Fatto sta che sono stati i primi nemici, quelli che ci hanno sempre martellato dicendo cattiverie a tutti i fronti, bugie, falsità, accusando questa amministrazione su tutti i fronti. Questo è inaccettabile e purtroppo la politica locale è rimasta a guardare. E quando io ho chiesto aiuto dal Presidente della Regione in giù a tutti gli esponenti politici di fermare questo stiliciglio di confondo di un'amministrazione seri, di un'amministrazione di centrodestra che governava una città capologa di provincia, sono rimasti tutti a guardare. I miei appelli sono rimasti in evasi e ho dovuto fare tutto da solo. Sono stato sempre solo. Io con un gruppo di consiglieri che per fortuna mi hanno lasciato governare e che mi hanno sostenuto fino alla fine e con l'aggiunta con la quale abbiamo fatto tutto il lavoro, superando tutte le difficoltà, non solo le politiche gravissime, con grandi responsabilità, ma quelle interne che questo Comune aveva e da tutt'ora. Senatore, però una telefonata gliela poteva fare a Dabollonia? Io credo che non si usa fare così. Io penso che se lui aveva le intenzioni di ricandidarsi avrebbe dovuto manifestare, io dico pubblicamente, ma anche privatamente, questa sua disponibilità. Anche perché Toma oggi ha detto io voglio far parte della partita. Toma addirittura la dice un anno prima, quindi parte con un piede diverso e lui ha aspettato le telefonate, io non lo so, non credo che questa sia stata mancanza di rispetto, peraltro non aveva mai avuto l'intenzione di non rispettarlo come sindaco e come uomo, quindi lui lo sa bene. Io so che in tutti i cinque gli anni sono stato chiamato solo per condividere i percorsi di guerra che si preparavano in Consiglio Comunale e Raimondo Fabrizio ne sa qualcosa. Lui era uno dei guerriglieri, però. Sì, per cercare di portare avanti e di evitare lo scioglimento del Consiglio. Sono le uniche occasioni in cui ho ricevuto qualche messaggio dal sindaco e puntualmente mi sono adoperato per raggiungere questo risultato. Per il resto non mi sono mai occupato di questioni comunali, ma ho sempre pensato di pensare a programmi che per i Segna fossero programmi importanti, vincenti e quelli che citavo prima, le cose che non ha fatto Toma in questi anni, erano tutte interessanti per la città di Segna se si fossero realizzate a dovere, quindi non capisco e quando non capisco è meglio che non commento. Ingegnere, lei vuol commentare quanto è accaduto? Sicuramente dispiace che alla fine di un percorso che è sempre complicato, e Sernia lo è stato particolarmente sicuramente per la questione amministrativa, le questioni di bilancio che sono ancora tutt'ora aperte, ma almeno quelle di bilancio uno sforzo sicuramente è stato fatto perché il Comune aveva dei problemi derivanti da amministrazioni interrotte, da commissariamente e così via. dispiace che si arrivi a questo, d'altronde lo scollamento del centrodestra c'è stato e qualcosa sicuramente non ha funzionato dal punto di vista del collegamento tra le politiche del Comune e quelle della Regione. Credo che da questo punto di vista, come tra virgolette giovane, anche se giovane non sono, ma questo è anche l'ennesimo appello che faccio anche alla minoranza, al Comune, ma anche al centrodestra in generale. Se tutti noi insieme riusciamo a superare i personalismi, che comunque nella politica ovviamente ci sono perché ci sono anche le ambizioni personali e così via, però se siamo in grado, se saremo in grado soprattutto nel prossimo futuro di superare questi personalismi risulterà più semplice fare delle politiche di sviluppo della Regione che ribadisco devono essere per forza condivise. Poco fa l'ex governatore citava il caso dell'autostrada, io non sono tanto d'accordo, però va comunque trovato un accordo su quali devono essere le infrastrutture di cui il Molise ha bisogno, perché non è che se un governo regionale cambia, cioè se arriva la destra o la sinistra, si cambia prospettiva sul Molise, su una Regione che ribadiamo a 300 mila abitanti, che è abbastanza estesa per il numero di abitanti che ama, che è comunque piccola. Ma come lo vince l'isolamento senza autostrada? Cioè se un della valle vuole atterrare a campo basso può impiegare due ore per giungere al casello più vicino? No, allora io l'ho detto anche, credo in questa trasmissione, credo che l'opera che costi meno, che possa essere fatta nel minor tempo possibile per collegarci alla 1, è quella diciamo di collegarci alla 1 a Mignano-Montelungo, cioè di proseguire, è un progetto che ho anche visto, di proseguire dal cementificio e arrivare o bucando diciamo la montagna che c'è lì davanti o tra virgolette facendo un passaggio laterale, quindi al ridosso delle montagne, arrivare lì. Quell'opera ci permetterebbe, investendo qualche centinaia di milioni di euro, quindi non parliamo di due miliardi o di qualche miliardo per l'autostrada, prima di tutto di arrivare all'aeroporto di Napoli, all'interporto che ricordiamo è una zona diciamo doganale e alla città di Napoli in pochissimo tempo e ci consentirebbe tra l'altro di arrivare a Roma evitando tutto il traffico di Venafro, riducendo l'inquinamento nella città di Venafro con la possibilità di rendere appetibile dal punto di vista logistico tutta l'area del nucleo industriale di Pozzilli. Ecco io credo che su un'opera del genere non possiamo dividerci, quindi probabilmente domattina o nelle prossime settimane un presidente della regione come Toma probabilmente non lo farà perché non l'ha fatto finora, dice ok questa cosa deve essere fatta e ci dovrebbe essere l'impegno di tutta la politica per dire ok quest'opera serve e nei prossimi dieci anni la possiamo fare. Va risolto, questo è vero, il nodo verso l'Adriatico e secondo me limitando l'impatto ambientale possiamo semplicemente con le direttrici che già ci sono migliorarle e rendere percorribili sempre non con i lavori che ci sono sempre e va probabilmente risolto la questione ferroviaria che ora è in itinere ma con degli accorgimenti particolari perché se noi magari, ora io l'ho preso anche spesso e volentieri il Frecciarossa da Cassino che all'inizio è lento però se noi ci immaginiamo di collegarci già a quel Frecciarossa possiamo tranquillamente andare a Roma, Firenze, Milano, Bologna, Torino e così via in pochissimo tempo, a maggior ragione se poi c'è la parte di Mignano-Montelungo dove sfociamo con la macchina, lasciamo la macchina nella fragola e andiamo via. Ci sono delle cose e non sono solo le infrastrutture, parlo anche della questione energetica, della questione sulle acque che è inutile dividersi. Questa cosa secondo me anche in un comune piccolo dovrebbe essere condivisa, dispiace, ecco questa è una cosa che a me non è piaciuta, anche perché ritengo che un sindaco, lo sto vedendo, ha tanto potere quindi è vero che deve trovare un coordinamento con la politica regionale, che ci sono dei referenti e così via, ma è vero anche che si può creare tranquillamente la sua autonomia. È vero che i consiglieri possano ostacolare, però deve essere anche capace, tra virgolette in alcuni casi, di coinvolgere dei consiglieri che potrebbero essere di minoranza. Questa cosa non è facile assolutamente, però il tentativo va sempre fatto. Avvocato, lei per i prossimi cinque anni che opposizione farà? Ha in animo di essere incisivo come lo è stato con D'Apollonio, oppure valuterà di volta in volta? L'ho dichiarato sindaco all'inizio e ho chiamato anche il mio sindaco per fargli gli auguri e ho detto che sarà assolutamente un'opposizione costruttiva, leale e sincera, così come lo è stato anche negli ultimi cinque anni. Poi purtroppo, siccome c'è stato un muro tra maggioranza e minoranza, perché anche il sindaco, se avesse voluto, aveva tutte le carte per limare quei contrasti che c'erano tra i due centrodestra. Tanto è vero che ci proponiamo... Perché non lo ha mai voluto fare, a suo avviso? Non lo so, non l'abbiamo mai capito, tant'è vero che ci siamo proposti, noi senza chiedere assolutamente nessuna, né alcuna poltrona né altro in cambio, ma solo, anche con una parte, mi sembra, anche con la Formichelli che proveniva da tutt'altra parte, siamo andati a chiedergli di azzirare la giunta, perché secondo noi quella giunta era incompetente, chiaramente parliamo sempre politicamente, e pur di cambiare passo abbiamo chiesto un azziramento della giunta e senza nulla chiedere in cambio. Cambia solamente giunta, eventualmente metti qualche esterno, ma così per avere un supporto maggiore, perché secondo me noi non stava lavorando così come si deve. Per quanto riguarda il neosindaco, ripeto, sarà anche perché il periodo è particolare, veniamo da due anni di emergenza, dove purtroppo i residenti e i cittadini, soprattutto i più giovani, vanno via, c'è bisogno comunque di una cooperazione da parte di tutti quanti, quindi sicuramente non saremo lì ad ostacolare, a prescindere così come tra l'altro ho sempre fatto, quindi questo glielo posso garantire. Sui temi faremo un'opposizione, sui temi, sui punti programmatici sentiremo il primo consiglio comunale, i punti programmatici della nuova amministrazione, poi chiaramente da lì partiremo, come dice lui, spero che siamo solo minoranze e non siamo opposizione, perché c'è una bella distinzione tra le due parole. Noi saremo fieri di poter dare una mano, soprattutto nel primo periodo, perché ci rendiamo conto che il sindaco è la prima volta che ricopre questo ruolo. La maggior parte dei consiglieri, mi sembra, solamente cinque avevano già avuto esperienze precedenti a livello di consigliatura, quindi saremo a disposizione loro, questo ve lo dico sinceramente, anche perché conosco da bambino il neosindaco, quindi non potrei non dargli una mano, soprattutto inizialmente. Siamo qui, ma penso come me anche gli altri consiglieri di minoranza, questo è poco ma sicuro. Senatore, è stato Castrataro a trascinare i partiti nel perimetro di centrosinistra e non viceversa. Ora lui, nella composizione della Giunta, che peso deve dare alla parte politica, alla parte di partitica. Insomma, il peso giusto deve dare. Adesso sul peso giusto discuterà, passerà qualche nottata. Insomma. Conosco le abitudini del centrosinistra. Da Marcello Veneziale in poi, nottate di discussioni, approfondimenti, teorie, poi alla fine viene fuori la soluzione. Mi auguro che ci sia la possibilità di dare al sindaco eletto, la possibilità di realizzare i programmi che ha in testa, insomma. Io, anche io conosco Piero da tantissimi anni, insomma, da giovanotto se non proprio da bambino. Quindi, e so che ha questa... Se lei non fosse stato leader del centrodestra non le sarebbe dispiaciuto vedere Castrataro Sindaco? No, sicuramente no. Però il problema è un altro. Il consiglio che gli farei già in questo momento è quello di non innamorarsi mai di un'idea, nel senso che deve sempre prevedere che ce ne possa essere una migliore. Poi, naturalmente, di scegliere qual è la soluzione più giusta. Ritorno sul problema dell'autostrada, che è un mio pallino. Io non capisco davvero perché il Molise ha rifiutato... Lasciamo perdere il progetto. La società Autostrade San Vittore Termoli, con l'impegno già prefigurato con l'ANAS, che si poteva utilizzare il casello di Mignano, Montelungo, perché obiettivamente è più agevole, più breve e anche meno costoso. La differenza tra autostrada, l'autostrada che ha distrutto Frattura, diciamo, che ha voluto cancellare, sull'onda anche di una forte spinta ideologica dei Cinque Stelle... Una damnazio memorie rispetto a Michele Ioni. No, non so, questo pareva per Frattura. Per gli altri era un problema proprio di, davvero, di convinzione diversa. Che è possibile? Non è che è criticabile solo per questo. È criticabile se uno la pensa in un certo modo, ma può essere anche giusta. Era che bisognava assolutamente realizzare invece, e qua, quando poni l'alternativa casca l'asino, bisogna realizzare una cosiddetta quattro corsie, da Mignano o da San Vittore, quattro corsie fino a Termoli. Ma su quattro corsie fino a Termoli è un'autostrada, se non vado errato. Perché la quattro corsie che si immagina, credo non voglia essere quel budello che esisteva prima a Perugia, che non aveva nemmeno l'area di sosta dove sono successi incidenti mastodontici, perché veramente diventa pericolosissima. La nuova quattro corsie, l'autostrada che ha la corsia anche di rallentamento e quella di sorpasso, noi avevamo un decreto legge, oltre al finanziamento di 250 milioni già approvato dal Cipe, avevamo una società che al 50% ci aveva la concessione di un project financing, cioè la regione diventava proprietaria e i diritti di concessione sono notevoli per un'autostrada che ha servizi, che crea insomma tutta una serie di opportunità. Perché rinunciare, dire di no? Perché faccio la quattro corsia? Se uno dice di no, come dice adesso Piero, perché aggiusto un po' la strada di Termoli e faccio magari la quattro corsie, non so se immagina questo, comunque aggiusto pure la strada di Venafro e arrivo a Mignano-Montelungo, allora è un discorso, ma se tu dici che vuoi fare una quattro corsie, dici una contraddizione in termini, perché finora la quattro corsie l'hai boicottata. Secondo argomento, il project financing, prima o poi, passata la buriana dei fondi europei di adesso, nei quali difficilmente potremo entrare per queste grandi infrastrutture perché non avremo i progetti pronti, passata questa fase, il project financing è un metodo di realizzazione dei grandi operi infrastrutturali che si può realizzare, con cui si sono realizzate tutte le autostrade d'Italia, alcune prima pubbliche e poi diventate private, altre realizzate in project financing, solo nel Molise diventa difficile e quando una legge ti dà addirittura la proprietà del progetto, tu mandi a casa progetto, soldi spesi e tutto per non realizzare l'autostrada. Ultimo argomento, quale governo ti finanzierà l'otto per l'otto il percorso da Mignano a Termoli? Ci metteranno 100 milioni, 200 milioni? Per fare una quattro corsie da Mignano a Termoli ci vogliono almeno 3 miliardi. Fatti i conti di quando riuscirai a realizzare quest'opera, in quanti anni, dandoti la possibilità al governo di darti 100-200 milioni all'anno. Intanto però per fare 87 km da Isernia a San Salvo quest'estate anche due ore di percorrenza, 7 semafori, una deviazione, siamo nel 2021, cioè percorregare l'entroterra all'Adriatico, due ore 87 km quasi lineari. Credo che sia vergognoso. Ma il problema sta proprio qui. Una cosa è finanziare un project financing, anche come metodo di finanziamento, si finanzia per grossi lotti, non un pizzico alla volta, perché un pizzico alla volta ci vogliono 20 anni, ma di più. Là c'è da discutere, perciò io invito il sindaco a pensarci, perché per esempio su Mignano-Monteluggo, non lo so se il governo darà i 200 milioni necessari, più o meno, per realizzare la galleria, ma c'è già un project presentato di privati che lo vorrebbero realizzare. Io non lo so se la regione ha già dato pareri, perché in questa regione le cose non si sanno, sono tutte segrete. Toma lo sa bene, però non le dice. E quindi non so se il governo lo sa o non lo sa, spero che il sindaco riuscirà a saperlo. Lui intanto avrà il problema dell'8-0. Ha posto l'argomento, è così l'8-0. Mi dispiace, ma penso che lui qualche problema ce lo avrà, perché conoscendolo non può essere contrario a un'opera che chiude un discorso di una strada fondamentale per lo sviluppo di Senni, verso Castel di Sangre e l'Abruzzo. Costa troppo, insomma non è colpa nostra, saranno i progettisti che l'hanno progettato. Impatto ambientale. Impatto ambientale. Qual è l'impatto ambientale? Io non l'ho capito. Le sorgenti sono state analizzate dai professori più importanti di tutte le università italiane, geologi di ogni, perché sono state più volte viste, riviste, riapprovate, ridiscusse, eccetera. Io non lo so, se vogliamo continuare a discuterne si può anche fare, ma io penso che siamo fuori, almeno su questo lui non avrà grandi problemi, perché stiamo fuori tempo massimo. Anche per la discussione. C'è il commissario, ci pensa il commissario, non credo che Draghi accetterà ulteriori rinvie. Se poi si deve aggiustare qualcosa si aggiusta, ma ormai quella è un'opera che si deve realizzare. Almeno io credo. La sollevo dall'imbarazzo di dire se l'otto zero è un'opera utile o inutile. Non c'è però solo l'otto zero tra le opere di cui Sernia ha un bisogno vitale. Mi riferisco ad esempio alla piscina. Questa città ha necessità di tornare a vivere, perché i ragazzi stanno partendo, non si alza più una gru, cioè la situazione comincia a essere realmente opprimente. Sì, allora ci sono delle cose che ho detto che sono facili da fare per il comune, come quello di favorire gli investimenti privati sul super bonus. Noi facendo un rapido calcolo, anche con tutti i condomini di Sernia, si potrebbero attivare progetti per quasi 100 milioni in edilizia privata, per cui il comune dovrebbe essere solo rapido a rispondere ai privati che vogliono fare queste opere. È chiaro che con la struttura comunale che abbiamo ora diventa difficile, perché siccome i tempi sono stretti per il super bonus, anche se ora sembra che in finanziaria ci sarà la proroga, almeno per i condomini, bisogna avere il coraggio di rispondere presto, e quindi di avere delle risorse umane che riescono a rispondere immediatamente alle richieste delle imprese e dei privati. Quindi questo è il primo aspetto e questo è anche il più semplice, dove il reale problema è avere delle persone, dei tecnici all'interno della struttura comunale che facciano quel lavoro lì. Poi ci sono i problemi dei finanziamenti in corso, il primo è questo della piscina, quindi lì bisogna vigilare in questo momento, nel senso che c'è stata una sola impresa che ha risposto, c'è la commissione di valutazione che sembra che ora i componenti che volevano farne parte, oggi se non sbaglio scadeva la data per cui potevano presentarsi come componenti, dobbiamo valutare se la risposta è l'azienda che ha risposto da sola o comunque i nati con un'altra è in grado di poter, ha tutte le carte in regola per poter fare l'opera, lì in quel caso noi abbiamo detto che effettivamente facendo un'analisi ci sembrava che l'opera costasse un pochino poco rispetto a quello che andava realizzato, però sono abbastanza convinto che è facile trovare dei fondi ulteriori per efficientare la piscina, sono circa mezzo milione di euro in più che se nel caso dovessero essere necessari li possiamo attivare, sono fondi ministeriali e quindi dal mio punto di vista, dal punto di vista della nuova amministrazione, la cosa da fare è vigilare sull'appalto, fare in modo che in un anno si completi e che si possa finalmente ridare agli sermini la possibilità di andare... L'azienda che ha risposto insomma non è proprio... L'azienda che ha risposto... Leggermente fuori dal perimetro che l'ha sostenuta in campagna elettorale. L'azienda che ha risposto, una diciamo nel consorzio che ha risposto, fa parte della famiglia Patriciello, dovrà interloquire necessariamente con loro. Ma io da questo punto di vista, poi c'è una questione abbastanza, ognuno ha i suoi ruoli. Il mio ruolo da quel punto di vista è un ruolo di garanzia che l'appalto venga eseguito da imprese che possano farlo e quindi che hanno tutte le carte in regola di farlo e che venga eseguito nel modo giusto e corretto che sia. E questo sarà fatto. Tra l'altro anche avendo esperienza da questo punto di vista credo che possa dare una mano in più e ci sarà un occhio ancora più vigile sull'appalto e poi l'impresa può essere di chiunque. L'importante è che, come sempre, ci sia regolarità contributiva, che l'impresa faccia le cose come devono essere fatte. Quindi questo non è un particolare problema. Ci sono gli appalti che sono stati avviati, anche se non partono ancora proprio in modo effettivo, perché stanno effettuando gli ultimi studi che sono quelli della San Giovanni Bosco e della San Pietro Celestino e quindi nel giro di un anno e mezzo dovremmo avere queste due scuole nuove e attraverso cui possiamo ridistribuire gli studenti, gli alunni e i professori, il personale scolastico in queste due strutture e questo avvantaggia soprattutto in una situazione in cui ora le scuole sono molto centralizzate, creando dei problemi non solo alle famiglie, ma anche di traffico all'intera cittadinanza in alcune ore del giorno. Questo quindi verrà fatto. Ci sono altri fondi che possono essere attivati, soprattutto i primi che arrivano del PNRR sono sugli asili nido e credo che si possano realizzare due barra tre strutture comunali, dove poi probabilmente darle in gestione a chi già fa gli asili nido a livello privato e quindi ci sono tante cose. Ribadisco che per poterle fare bene bisogna risolvere il problema della macchina amministrativa e del personale, perché attualmente, effettivamente, anche in questi giorni mi sono reso conto che ci sono pochissime persone e che quindi va assolutamente migliorata e aumentato il numero di persone che lavorano all'interno del Comune. Intanto c'è il Consigliere regionale di Lucente che la paragona ad un muro in un'accezione però positiva. Leggo testualmente. Sul post-voto a Isernia arriva il commento La sconfitta di Isernia ha mostrato chiaramente come la politica dei partiti e non quella della gente e dei territori è un fallimento. L'analisi del voto di due settimane fa e ancora di più del ballottaggio è chiara. Se i partiti continuano con la loro politica personalistica, impositiva e sorda alla voce delle persone, sbatteranno continuamente contro un muro ed oggi quel muro si chiama Piero Castrataro. Senatore Iorio, vogliamo commentare questa dichiarazione? Non ho capito perché Castrataro sia un muro. Centrodestra sbatte contro un muro che ha il volto di Piero Castrataro. Ah ma perché si candida la regione? No, 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 io ho già dichiarato che non è mia intenzione assolutamente. C'è già gravina. Io ho preso l'impegno di governare Isernia almeno per cinque anni, quindi sono tranquillo da questo punto. Non lo so, non riesco a capire qual è l'obiezione. Probabilmente teme che lo schema Isernia si riproporrà al campo basso. Guardate, anche su questa storia, noi abbiamo avuto, devo dire, la incapacità di trovare una soluzione unitaria. E posso dire anche abbiamo, perché io sono abituato a dividere le responsabilità, o meglio a condividerle. Ci sta chi invece ritiene di essere sempre dalla parte della ragione e vabbè, non cede rispetto ad un dialogo dove è una possibilità di comporre i dissidi. Ma non capisco questa difficoltà che dovrebbe, questo muro che dovrebbe incontrare la regione, perché ancora non si affaccia un castrataro alla regione. Quelli che stanno discutendo oggi non hanno sicuramente le sue caratteristiche. Vedremo se ci sarà la stessa capacità di sintesi e il centrodestra continuerà a fare quello che ha fatto Isernia, beh, allora sì, potrebbe essere così. Ma io lo dubito. Io penso che il centrodestra, adesso lo dico con molta convinzione, abbia la possibilità di rinnovarsi, rinnovarsi nei metodi, rinnovarsi nelle idee, chiarire bene i progetti, far rispettare gli impegni elettorali, che è un, e credo che sia, la prima condizione di onestà intellettuale che un politico deve avere. Guai a rappresentare in campagna elettorale un'idea e poi fare esattamente il contrario una volta eletti. Questo significa essere disonesti. E questa è l'onestà che richiede la politica in primis. Perché l'altra onestà, quella è scontata, lo richiede la legge. Quindi non c'è bisogno di propagandarla, insomma. Quando ha fallito lei qualche obiettivo, come sei posto poi rispetto ai suoi elettori, ai cittadini? Quando? Quando ha fallito qualche obiettivo? Ah, se lo fallisci, vabbè, lo fallisci per qualche ragione superiore, ma non lo fallisci perché ti contraddici rispetto alle cose che hai detto. Insomma, perché dipenda, se ci sono delle ragioni superiori che ti impediscono di realizzare un progetto, un'iniziativa, perché cambiano i sistemi, perché non arrivano i finanziamenti, perché, vabbè, insomma, quello non è un venir meno a un impegno. Ma quando stabilisco un impegno programmatico è quello che devo portare comunque avanti, con convinzione e con onestà intellettuale. Tutto questo il centrodestra ce l'ha come bagaglio culturale, perché non è che non ha governato la regione. Ha avuto tanti anni in cui questo discorso è stato fatto, è stato mantenuto, e siamo anche stati premiati dagli elettori. Poi sono cominciate alcune grandi manovre che coinvolgono anche altri palazzi, di cui forse parleremo quanto prima, mi riferisco a palazzi giudiziari, e magari il discorso si è inceppato, ma insomma l'abbiamo sempre fatto. Io personalmente sono stato eletto tre volte consecutive dai molisani, non è che sono stato eletto chissà da chi, e quindi forse sono stato eletto perché qualcuno ha ritenuto che meritassero di essere eletto. Quindi non manca al centrodestra questa capacità, e anche il radicamento territoriale che è notevole e che se è ben utilizzato potrebbe darci soddisfazioni nella prossima occasione. Se poi invece dovessimo fare le cose che il centrodestra ha fatto a Isernia, litigi, contro litigi, in posizioni come ho cominciato di intravedere nelle dichiarazioni di introduzione della sua trasmissione da parte di Toma, e cose di questo genere, beh, allora significa che insomma il centrodestra ha deciso di suicidarsi e quindi non ci serve manco Castrataro, basta pure uno meno piacevole dal punto di vista personale che vincerebbe comunque le elezioni regionali. Una curiosità da cittadino, non da giornalista, ma lei perché prima del ballottaggio è stato silente? Cioè il partito si è espresso, Iorio ha taciuto. Ho taciuto perché il mio partito ha detto che votavamo, dovevamo votare il centrodestra. Siccome io non ero credibile a cambiare platealmente questa posizione, l'ho fatto con discrezione e ho anche aggiunto quando ho fatto questa considerazione, sempre nella logica di quello che avevamo detto prima, che la mia presenza proprio attiva in campagna elettorale sarebbe stata vista come una trattativa di chissà che cosa, come qualcosa di strano. Tipo un assessorato in regione. Ma sì, assessorato, due assessorati, se ne è pure discusso, insomma, non è che... Ma voglio dire... Avrebbe accettato? Avrebbe accettato? No, 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 no. Avevamo bisogno di avere... Io ho consigliato al sindaco di rispondere all'intesa che volevamo proporre a livello regionale per dare alla sua candidatura una forza diversa e veramente competere con Castrataro perché noi non siamo mai stati competitivi al ballottaggio, secondo il mio punto di vista. Lo dicono i numeri, insomma. Lo dicono i numeri. La partita si è chiusa con un 60-40. Ma no, si sapevano anche prima i numeri. Bisognava creare delle condizioni di coinvolgimento e di, come devo dire, di adesione su un progetto più ampio che condivideva anche la regione Molise. Almeno come percorso, come possibilità di cambiamento, come discorso programmato su alcuni temi. E questo non è stato possibile perché c'è stato il veto, credo, del grande presidente Toma e il centro-destra si è suicidato. O meglio, ha suicidato Gabriele Meloni. Io la vedo così. Avvocato, lei dopo il primo turno ha subodorato Puzza di Bruciato. No, più che Puzza di Bruciato mi rendevo conto quando tornavo nelle case oppure incontravo i cittadini vedevo che c'era questa, come l'hanno chiamata pure loro, questa onda di Castradaro che cresceva giorno dopo giorno. Si è aperta una diga e il fiume è diventato in arresto. Sì, assolutamente, ma questo era prevedibile perché il centro-destra, se analizziamo comunque anche il ballottaggio, diciamo che Castradaro ha preso mille voti in più rispetto al primo turno come preferenze sul sindaco. Noi ne abbiamo presi mille e meno rispetto anche al primo turno sul sindaco. La maggior parte dei nostri elettori non si è recata proprio al voto. Quello che c'è di più rispetto alle altre volte è che nessuno vuole capirlo, ma io l'ho capito già dall'inizio, prima del ballottaggio, è che quella fascia di ragazzi che vanno dai 18 ai 35 anni che si sono sempre disinteressati della politica, soprattutto locale, oppure che facevano riferimento ai propri genitori, andavano papà, mamma, chi dobbiamo votare loro gli dicono indicazioni. Ora si è capovolto, nel senso che erano i ragazzi che spingevano per Castradaro ed hanno invitato anche i genitori a fare lo stesso, a votare per Castradaro. Volt, per esempio, ha intercettato, ingegnere, quella fascia d'età. Sì, sì, è stato sicuramente un elemento nuovo, positivo, perché si tratta di ragazzi giovani, preparati, che si vogliono impegnare. Diciamo, anche la figura mia, anche se possiamo dirlo, io non sono più giovane, perché c'è una certa età anch'io. Eh no, tu sei giovanissimo, per me almeno sei giovane. Una certa età anch'io, però sicuramente quello che diceva Raimundo Fabrizio è successo, cioè c'è stata questa, ed è stato anche positivo, ed è bello, no, che i giovani si impegnino di nuovo, che capiscano che che possano contare in politica. Magari il centrodestra se ne è dimenticato, e probabilmente la prossima volta se ne deve ricordare di più, perché sui giovani che noi ci giochiamo una partita importante, per quella che io, l'ho detto sempre, in campagna elettorale per Isernia, ma anche per il Molise, è la sfida principe, cioè il calo demografico. E noi abbiamo questa spada di Damocle tremenda, perché se ogni anno perdiamo 3.000 abitanti, mettiamo in crisi ancora di più la sanità, mettiamo in crisi i servizi, perché la popolazione invecchia, diventa tutto veramente più difficile. Quindi ecco, io ci tengo a dire questa cosa, se dovessimo pensare alle 10 cose da fare della regione non sono né di destra né di sinistra, diventerebbe anche difficile dividere. La prima questione è il fatto che c'è il calo demografico e quindi dobbiamo attivare tutte le politiche sul lavoro, sui giovani, sul favorire le famiglie a fare figli, sulla possibilità di rimanere qui, per fare in modo che si arresti questo calo demografico e che invece la regione diventi attrattiva. Io sono ancora convinto che noi possiamo attrarre anche persone da fuori che sono io ho degli amici che vivono a Roma che hanno la mia età e che non ne possono più di stare in una città che è caotica, che ha una qualità della vita bassa e per cui devi avere un livello di reddito elevato per poterti permettere determinate cose. Mentre a di Senna, ma dico a Senna come dico in altre parti del Molise, tu puoi avere diciamo uno stipendio normale, avere una qualità della vita alta, capire che questo può diventare la missione di una regione quella di poter offrire come lo è anche in altre province italiane, basta pensare alle Marche, all'Umbria, ma anche alla stessa Emilia Romagna, Toscana, per non dire alcune province del Veneto a cui noi non dobbiamo invidiare nulla se non il fatto che lì c'è il lavoro, mentre se parliamo di paesaggi siamo molto più interessanti noi, più attrattivi. questa è la missione secondo me dei prossimi dieci anni, arrestare il calo demografico, fare in modo che i giovani non vadano via, cercare di richiamare quei bravissimi giovani che non sono né di destra né di sinistra, anzi se andiamo a vedere ecco una cosa che passava e che non mi è piaciuta è che come se le brave persone, non è vero che le brave persone o quelle che si impegnano in politica sono o di destra o di sinistra, sono di entrambi gli schieramenti e quindi c'è tutta ci deve essere la volontà che travalica gli schieramenti di condividere alcune cose e poi la battaglia politica si fa ed è giusto che si faccia e ha anche i suoi toni delle volte aspre ci sono state anche nella mia campagna elettorale in alcuni momenti mi è anche dispiaciuto però i toni e la battaglia politica non devono mascherare l'obiettivo finale che ciascuno di noi che fa politica o fa amministrazione deve avere che è quello di dare a questa regione una missione che vada oltre i 5 anni che vada oltre i 10 anni alcune cose parliamo di infrastrutture possiamo non essere d'accordo su quale è il modo migliore di spendere 500 milioni di euro ma alla fine dobbiamo decidere che cosa fare perché non è che arriva un governatore e toglie una cosa e arriva un altro e la rifa da capo perché già la burocrazia è un problema enorme in Italia se poi ci si mette anche la politica a non decidere e allora questa regione è destinata a morire questo deve essere chiaro lei faceva riferimento a dei toni aspri in campagna elettorale soprattutto al crepuscolo del ballottaggio due le accuse che le sono state mosse la residenza e diciamo in qualche modo degli interessi reconditi che si celerebbero dietro la sua prima candidatura e poi elezione partiamo dalla residenza vabbè la residenza io l'ho già dichiarato io attualmente sono residente a Firenze sono stato residente ai Serna fino al 2018 il paradosso è che da un anno sto sempre a Serna ma sono ancora residente a Firenze io questa cosa non ho mai capito come potesse essere un problema nei prossimi mesi la sposterò come è giusto che sia perché ormai ormai vivo qui mi ha fatto piacere sentire diciamo sia dell'ex governatore che da Raimondo che mi conoscevano quindi questa è una strada che sarà di Serna comunque la levo pure io la residenza può darsi che fra 5 anni perché da Polonia non aveva la residenza la stradaro neanche allora io sono residente a Campobasso o posso candidarmi a sindaco di Serna io sono residente di Serna quindi devo essere residente fuori di Serna allora va bene ho capito il motivo e invece sul fatto che lei voglia inondare di pannelli fotovoltaici tutta la provincia di Serna mi ha fatto ridere perché perché tutti sanno che io come piccolo imprenditore mi sono interessato sempre di impianti fotovoltaici e di energie alternative in generale meno diciamo dell'eolico e sono il poi se vogliamo non è un crimine no io l'ho fatto in tutti gli impianti diciamo che abbiamo realizzato avevano le necessarie autorizzazioni quindi senza nessun problema tutto alla luce del sole sono le unità locali i fornelli i monterodoni se ne sono dette di tutti i colori però tutto io invito tranquillamente siccome sono una persona trasparente tutti possono sapere tutto di me perché poi basta fare una visura e si controlla tutto non è un problema mi ha fatto ridere quando ho letto delle cosucce veramente ridicole tra cui il fatto che ci sia un conflitto di interessi il conflitto di interessi non c'è perché io non ho praticamente quasi mai lavorato per l'amministrazione pubblica anzi ritengo soprattutto sul fotovoltaico dove anche sull'eolico c'è un problema che in questa regione non è stata mai chiarito che è quello di dove fare gli impianti faccio un esempio ora in basso Molise sono state presentate delle autorizzazioni addirittura per 100 megawatt che vuol dire occupare un territorio da 100-120 ettari e questo ha basso vantaggio per i cittadini con un grande vantaggio invece per gli imprenditori che in alcuni casi sono chiaramente delle multinazionali fondi di investimento che vengono ad investire ecco qui la regione deve fare un discorso chiaro perché noi abbiamo un patrimonio forte sia dal punto di vista ambientale che ci può aiutare nella generazione di energia nessuno lo sa ma praticamente Molise Pro Capite credo che sia la regione che produce più energia rinnovabile e questa dovrebbe essere un vanto però negli anni passati potremmo essere autarchici esatto negli anni passati si è fatto un errore qual è l'errore? di non dire chiaramente dove gli impianti potevano essere fatti e dove non non possono essere fatti c'è una battaglia della col diretti per evitare di fare gli impianti laddove il terreno è coltivabile lei sposa allora io sposo una cosa che hanno fatto anche in altre regioni e che stanno discutendo anche ora anche con l'Enea che è la seguente ci sono dei terreni marginali quando parliamo di terreni marginali diciamo sono terreni che non hanno un'alta produttività a livello agricolo e che quindi non si trovano in zone pregiate o diciamo buone dal punto di vista paesaggistico quindi non c'è un vincolo paesaggistico allora quelle zone molto probabilmente studiando anche caso per caso ma facendo una mappatura possono essere destinate ad impianti fotovoltaici ad impianti olivi ci sono invece delle zone che sono pregiate perché potrebbero essere non solo per prodotti agricoli prodotti che potrebbero essere DOP di origine protetta e così via in altre regioni hanno detto in quelle zone visto che sono tipiche sia dal punto di vista dell'agricoltura che dal punto di vista del paesaggistico pensiamo alcuni territori del Basso Molise soprattutto quelli collinari non hanno nulla da invidiare alla Val d'Orcia lo dico tranquillamente loro magari hanno saputo diciamo venderla meglio noi meno ecco probabilmente in quei territori fare degli impianti molto grandi diventa un colpo nell'occhio quindi c'è un problema però anche qui bisogna usare la razionalità c'è un valore che è quello del paesaggio e quello dell'agricoltura che va sicuramente mantenuto e c'è un valore anche quello della produzione di energia che è una cosa positiva io da questo lancio un piccolo sasso nello stagno perché uno degli esempi più belli che ci vengono proposti e vengono dalla Germania è quello che tanti impianti in Germania sono impianti di comunità cioè che cosa succede che se io faccio un impianto fotovoltaico in una zona marginale e così via la proprietà di questo impianto è suddivisa fra centinaia di soggetti che hanno investito 1000, 2000, 3000 euro e si ritrovano un rendimento del 10-12% ecco questo tipo di capitalismo chiamano democratico per una regione così piccola dove tra l'altro ci conosciamo tutti quindi c'è anche grande fiducia al di là delle appartenenze politiche potrebbe essere uno di quei motori di sviluppo che possiamo utilizzare quindi io dico chiariamoci su dove vanno gli impianti dobbiamo anche sapere che questa è una delle maggiori noi abbiamo delle risorse naturali che tutti ci invidiano sole vento acqua noi probabilmente diventeremo ancora più ricchi negli anni prossimi perché abbiamo tanta acqua per noi e per gli altri e il valore dell'acqua aumenterà con gli anni abbiamo i boschi che stanno aumentando però mentre nelle regioni come il Trentino Alto Adige c'è una valorizzazione perché ci sia una filiera del legno utilizzato per costruire e poi del sottobosco per riscaldare noi ancora importiamo gas dalla Russia e dalla Libia quando non ne abbiamo bisogno su temi del genere ribadisco è inutile dividersi basta in questi casi come ho sempre detto copiamo chi ha fatto bene le risorse ci sono le capacità ci sono io insisto che sia in Molise sia richiamando parecchie persone che sono andate fuori che possono dare una mano alcuni anche gratuitamente le capacità ci sono e possiamo tranquillamente camminare con le nostre gambe allora in questo momento c'è uno spartiacco nella nostra trasmissione dobbiamo ancora affrontare due argomenti velocemente senatore te lo dico per tranquillizzarla due argomenti che sono comunque importanti per il Molise il servizio di emergenza urgenza che questa mattina ha protestato davanti alla sede del consiglio regionale ed il gemelli Molise rispetto al quale c'è un'idea da parte del governatore senatore velocemente il gemelli il governatore Toma vorrebbe in qualche modo acquisirne la proprietà con la regione Molise è un'idea peregrina oppure è un'idea che lei condivide? non è non è un'idea peregrina io come idea la condivido non è non è un problema bisogna vedere però per farci che cosa ecco questo credo che sia il problema della della questione posta da Toma innanzitutto se è possibile farla perché io ancora non l'ho capito secondo se è possibile farla dal punto di vista giuridico per fare cosa e questo nemmeno l'ho capito insomma c'è bisogno di qualche chiarimento dopo di che lei è favorevole comunque ad un'integrazione tra pubblico e privato ovvero tra Cardarelli e Cattolica sì l'ho tentato tante volte ci sono anche un trasferimento in blocco del Cardarelli all'interno della Cattolica può essere una soluzione anche questo ho tentato di fare non ci siamo riusciti perché il problema non è di semplice soluzione mi rendo conto però rispetto ad un problema che il Cardarelli ha anche dal punto di vista sismico credo che questa soluzione poteva essere potrebbe essere una delle soluzioni da adottare utile alla sanità molisana dobbiamo sapere di più però su che cosa si vuole fare o meglio che cosa vuole fare la Cattolica e che cosa la Regione vuole dalla Cattolica queste due domande sono la base per poter trovare qualsiasi tipo di soluzione penso che non si possa rinunciare alle caratteristiche fondamentali per cui è nato quell'istituto e cioè l'eccellenza per quanto riguarda sia la la cardiochirurgia che la la radioterapia e l'oncologia sono argomenti che vanno trattati con diciamo con determinazione perché da quelle condizioni di specialistica non si può deflettere né rinunciare poi per il resto sarebbe bene conoscere saperne di più ma perché la Cattolica è stata costruita su solo pubblico con tasse pagate però da cittadini molisani cioè perché il Molise adesso deve ricomprare ciò che teoricamente è suo ma non è suo il terreno l'ha comprato la Cattolica non è vero da un privato e la struttura la nuda proprietà la nuda proprietà è stata realizzata a favore di un privato come sono state realizzate come è stata realizzata anche la Neuroment che è stata realizzata con fondi privati e pubblici e anche anche lì c'è stato un investimento minimo dalla Cattolica ma insomma non è il primo investimento che il pubblico finanzia e poi però crea delle condizioni dei vincoli che durano un certo numero di anni io non so adesso la situazione specifica della Cattolica come è stata a questo punto di vista dopodiché non è la proprietà non è della regione la proprietà è della Cattolica è completamente in capo alla Cattolica è completamente in capo alla Cattolica secondo me sì però ripeto qui siamo nella regione lei da giornalista se ne sarà reso conto siamo nella regione dei misteri cioè tutto è mistero tutto è mai spiegato nessuno dice completamente quello che pensa e anche nella sanità non si capisce si approva un post che si dice però che non deve essere applicato lo si approva fuori legge perché la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che quella procedura è anticostituzionale e adesso aspettiamo il Tar che lo dica per l'ennesima volta siamo in una regione dove non si applicano le leggi ma non succede mai niente dal punto di vista della responsabilità se dovesse essere bocciato dal Tar per l'ennesima volta il POS perché la Corte Costituzionale ha detto che quella procedura è incostituzionale si torna a Michele Iorio si torna al piano di Michele Iorio sì perché quello di Frattura è stato già definitivamente bocciato dalla Corte Costituzionale questo di Tom verrà sicuramente ribocciato perché ha seguito lo stesso metodo cioè non c'è stato dibattito coinvolgimento ecco se dovesse accadere che il Tar siccome il Consiglio regionale a maggioranza ha detto al Presidente revoca quel provvedimento dovesse bocciare ulteriormente che cosa come si chiama questa procedura è un abuso d'ufficio è un ritardo colposo per riorganizzare la sanità per non riorganizzare la sanità per lasciare le cose alla deriva e c'è una volontà specifica insomma io credo che qualche risposta bisognerà darla perché non è possibile che in questo Stato si possa fare tutto quello che si vuole perché nessuno dice nulla nessuno protesta nessuno provvede a far rispettare la legge io penso di essere stato chiaro noi abbiamo e io invito tutti i cittadini a leggerla quelli che hanno un po' di pazienza per farlo la sentenza della Corte Costituzionale e poi capire perché quel post è stato firmato da Donato Toma che poi il post firmato da Donato Toma parlo con in questo momento con l'avvocato Raimondo Fabrizio piombato in campagna elettorale diciamo non vi ha dato una grossa mano assolutamente è stato lì fermo per diversi anni non capisco il motivo per il quale si poteva aspettare i 15 giorni ma neanche quello perché sarebbe comunque una presa in giro per i cittadini di Sernia o avveniva prima o dopo le elezioni comunque secondo me anche se poi ci hanno assicurato che quel piano sanitario non prevedeva alcuna chiusura per quanto riguarda quello che interessa a noi all'epoca che era la chiesa di Sernia quindi ci hanno garantito che in ogni caso quel posto non andava a intaccare né a tanto meno a diminuire sia per quanto riguarda i reparti che per quanto riguarda la possibilità degli utenti di essere curati nell'ospedale di Sernia comunque anche noi io sono stato il primo ad allarmi chiaramente ho fatto riferimento ai miei consiglieri regionali i quali mi hanno assicurato che non stava così però io con Toma non ho rapporti e quindi non ne l'ho chiamato ne l'ho sentito né prima né dopo neanche lo chiamerò perché pur facendo parte del mio partito non abbiamo avuto mai questo collegamento quindi non so che cosa rispondere in più se non sarebbe stato opportuno non solo dal punto di vista dell'approvazione ma anche soprattutto in campagna elettorale quindi è stato fermo tanti anni non so il motivo per il quale poi si è velocizzato intanto questa mattina il 118 ha protestato sotto la sede del Consiglio regionale la diaria per i volontari passa da 50 a 20 euro al giorno per turni da 12 ore la manutenzione delle ambulanze è stata dimezzata da 40.000 a 20.000 euro nonostante si tratti di mezzi speciali non c'è alcun riferimento alla stabilizzazione dei volontari le tariffe del gasolio sono ferme al 2008 insomma diventa veramente difficile in queste condizioni garantire un servizio alla collettività il rischio è che questi volontari si fermino non possono farlo perché ci sarebbe un'interruzione di pubblico servizio ma sono costretti a fermarsi perché non troveranno più nessuno che per 1,50 euro ad ora va a coprire questo servizio è un problema per tutta la rete dell'emergenza urgenza è un problema grande è un problema qui come solito della politica molisana ci si arriva tardi perché credo che questo sia un adeguamento di un provvedimento nazionale però chiaramente qual è la sofferenza ulteriore del Molise quello di aver esternalizzato quindi di fondare diciamo il 118 sui volontari invece di pensare al fatto che pian piano queste persone che svolgono un servizio necessario e importante per la salute dei cittadini dovessero essere prima o poi garantite in un determinato modo ed è quindi un problema solito che è quello di non saper guardare avanti della politica regionale in generale quindi la cosa assurda è che una cosa del genere succeda e la cosa assurda è che il governo regionale non abbia già una soluzione perché prima o poi qualcuno si sapeva che si andava a finire si andava a sbattere su questo muro e qualcuno come al solito non ha pianificato ecco questo credo che sia l'ennesimo episodio di come Toma e questo governo regionale non siano in grado assolutamente di garantire la salute ai cittadini di questa regione è l'esempio diciamo ulteriore dell'incapacità e anche della mancanza di volontà di risolvere i problemi anche se poi oggi il governatore ha detto rivedremo sicuramente l'avviso quindi in qualche modo ha anche sconfessato quello che era stato il lavoro a monte fatto dall'azienda sanitaria regionale ma questa cosa l'ha detta anche sul POS dicendo quello che è scritto in realtà non dice tutto e quindi io do garanzie su tutto però queste cose come sempre hanno a monte un metodo e il metodo di Toma è quello di decidere lui senza condividere con i cittadini che però si sono resi conto che su un tema come la salute siccome sta diventando un problema fondamentale vogliono condivisione perché vogliono poter contare e quindi lui dice sì ok ma allora la domanda è perché lo hai fatto perché se è arrivato questo governo regionale è arrivato a questo punto loro hanno questa incredibile incapacità di risolvere di anticipare i problemi perché forse la politica li deve anche anticipare questa cosa che riguarda la salute può essere collegata ora purtroppo a Pozziglia abbiamo la vertenza Uninever che è una vertenza che è passata paradossalmente sotto banco ma lì stiamo perdendo 300 posti di lavoro 300 famiglie che non sappiamo che cosa farà prima si è fatto l'esempio di tutte queste persone che sono in cassa integrazione ormai da anni e nessuno in questo momento in questi anni di governo regionale si è preoccupato di risolvere questo problema sulla sanità io credo che ormai è palese il fatto che ci sia un fallimento gestione covid pos 118 io quando ho parlato con dei medici del 118 mi hanno detto loro stessi turni massacranti non in grado di garantire pronti soccorsi pieni sia di senne e campo basso persone non disponibili credo che non ci voglia altre dimostrazioni del fatto che c'è qualcosa che non funziona ormai sappiamo che essendo Toma anche commissario il responsabile di questa situazione ora è lui quindi o risolve le cose o è giusto che vada a casa questo mi sembra chiaro tra l'altro senatore oggi Lucio Pastore che non è propriamente un suo amico possiamo dirlo è un mio amico comunque ha denunciato un iperafflusso di utenza all'interno del pronto soccorso con un blocco sostanziale dei ricoveri perché gli altri reparti non accettano più pazienti quindi in questo momento al pronto soccorso di Sernia ci sono 30 persone in attesa di essere destinate altrove come se ne esce da questa situazione c'è una situazione molto grave molto grave perché questi annunci da tempo che vengono vengono fatti in questo modo a Sernia a Sernia lo ha detto Pastore adesso ma insomma per chi vive in quella città si rende conto deviso di come è la situazione di quell'ospedale a Campobasso l'altro giorno c'era una fila di ambulanze con i pazienti dentro le ambulanze che non potevano scendere dall'ambulanza che non potevano essere nemmeno visitate che aspettavano di essere visitate però come attenuante ai vertici sia politici sia dell'azienda sanitaria vogliamo riconoscere il covid come attenuante no perché sono situazioni che non si realizzano non si verificano da nessuna parte in questo in questo modo il covid ha avuto la possibilità di certo nel momento dell'emergenza sicuramente qualche cosa non poteva essere previsto insomma da questo punto di vista siamo perfettamente d'accordo ma con il tempo che passa noi siamo l'unica regione che non ha un centro covid insomma qualcuno deve dire perché ogni tanto assistiamo al fatto che il progetto non era poi la competenza commissaria da direttore ingegnere il governo non è questo è quell'altro di fatto non abbiamo questo tipo di servizi ma per ritornare al sistema dell'emergenza oggi per via del piano del post approvato se avviene una qualche emergenza di carattere neurologico grave insomma di tipo non traumatico vai e ti portano altrove dove troveranno posto magari a Benevento foggio bisogna uscire fuori regione si esce fuori regione insomma questa non è una cosa normale è una cosa straordinaria Isernia tra poco chiuderà l'emodinamica perché va in pensione l'ultimo cardiologo che la fa Termoli ha già chiuso l'emodinamica e quindi si va solo a Campobasso e credo che rischia anche oncologia al veneziale sì ci sono delle condizioni Toma ogni volta che fa qualche relazione in consiglio regionale risale ai tempi te l'ho detto dello statuto Albertino per dire che la responsabilità è stamattina detta dal 95 96 si è fatti i conti insomma intanto lui in 4 anni nel 95 lei che percentuali di colpi aveva? no era assessora alla sanità probabilmente quindi no ma lui misura bene gli anni per dare la responsabilità a me insomma c'è uno sport tutto suo personale allo statuto Iori non Albertino non Albertino è quello Iori e vabbè insomma voglio dire a parte questo però restano i problemi la questione del 118 non doveva esserci questione noi già utilizziamo devo dire in maniera positiva anche se con grande disagio degli operatori i volontari per fare un servizio che dovrebbe fare tutto il pubblico dovrebbe garantire tutto il pubblico ma sappiamo che con quel sistema costerebbe 3 o 4 volte in più e quindi ci darebbe diciamo una mazzata economica piuttosto virulenta ma poi arrivare a fare una gara riducendo del 50% l'intennità attraverso i rimborsi spesa 20 euro al giorno per un volontario veramente non è dignitoso per la persona diventa impossibile quindi l'intervento deve essere fatto secondo me deve essere fatto immediatamente io capisco che può nascere un calcolo fatto male da parte dei tecnici di chi ha preparato il bando però una volta che ci si rende conto se sono vere quelle affermazioni si provvede a cambiare lunedì ha dato la propria disponibilità per incontrare le associazioni e per rivedere l'avviso dell'Ase ma si arriva tardi si arriva ad avere le ambulanze davanti alla regione è un unicum nella storia della regione io lo sto leggendo sul giornale già da molti giorni abbiamo qualche giorno fa abbiamo avuto una lettera da parte dei volontari ho chiesto informazioni insomma naturalmente difficilissime averle ma insomma voglio dire bisognava evitare la manifestazione bisognava correggere immediatamente quel bando perché non è possibile scherzare su queste cose e quindi adesso provvederà il presidente con tutta l'enfasi del mondo per dire ho risolto questo mezzo problema che è stato creato e che non c'era ma speriamo che almeno questo si risolva insomma allora siamo in conclusione della nostra trasmissione prima di chiudere però chiedo ancora un minuto di pazienza Cavaliere sulla situazione del centro-destra a cui vorrei poi rispondesse l'avvocatore Mondo Fabrizio sentiamo Nicola Cavaliere Cavaliere cosa devono insegnare le amministrative di Sernia? Ma qualunque competizione elettorale ha sempre un risvolto il giorno dopo dove gli addetti a lavori dovrebbero e devono più che dovrebbero fare un'analisi del voto in senso propositivo sui Sernia c'è da ragionare da valutare da verificare una situazione che parte da lontano che mette in crisi un sistema di coalizione non possiamo permetterci questa situazione così particolarmente di divisione la gente chi il popolo di centro-destra ci ha dato un'ulteriore elezione ci fa capire che non ama litigi che non ama posizioni di conflitto e quindi io mi auguro che chi di dovere faccia un'analisi complessiva e sia propositivo in un quadro di coalizione unito e con prospettive al 2023 Allora Nicola Cavaliere avvocato Raimondo Fabrizio parlava di crisi della coalizione è così grave la situazione in questo momento si si continua perché anche io il post voto quello che non mi spiego è che continuiamo a dare le colpe l'uno dare le colpe all'altro però senza che nessuno effettivamente va a verificare che cosa è successo dall'esame del voto vediamo che ormai c'è la crisi non solo dei partiti ma perché perché si pretende che dai davoli romani dove nessuno sa e nessuno neanche sa dove si trova i segni per farli capire pretendono di mettere ognuno il proprio il proprio puntino sulla città io parlo di partiti in generale ancora stiamo lì a dire però spettava a Tizio spettava a Caio spettava a Sembronio se non si riparte dai territori possiamo qua stare a parlare da qui fino ai prossimi fino al 2023 noi la questione non la risolviamo non è possibile che ancora da Roma ci imbongano chi possa essere il candidato edonio per la città di Sernia ma come dico per qualunque altra città oppure paese del Molise se non capiamo che il voto di Sernia è stato anche ci ha detto che se contiamo con questi personalismi con questi voti non andremo a nessuna parte così come ci ha detto che non è più possibile continuare con questa politica con questa vecchia politica dove si vede la città di Sernia era un campo di battaglia per le prossime regionali allora la gente l'ha capito i Sernini l'hanno capito e sono stufi di questa politica il mio è un appello a tutti coloro a incominciare da Michele Ioro a incominciare da Toma e tutti quanti gli altri che fanno parte della coalizione del centrodestra cerchiamo di capire qual è la volontà dell'elettorato l'elettorato è stufo di questi nostri litigi vuole rinnovamento rinnovamento della politica la vecchia politica purtroppo ci siamo accorti che non va più non va più bene e non viene più scelta dai cittadini cerchiamo di metterci una pietra su di voltare pagina e ripeto dadici una mano a crescere soprattutto a noi io neanche sono giovane sono coetaneo del sindaco Castratalo quindi non dico neanche a me ma il centrodestra non è possibile dopo 30 anni si ritrova candidati sempre gli stessi nomi se non è Tizio è Caio ma sono due nomi che circolano sempre quello di Meloglio oppure quello di Raffaele Mauro non è più possibile sinceramente io lo dico da persona che probabilmente in queste elezioni da militante giovane che è sempre rimasto nello stesso perimetro sono stato sempre coerente e cose io non vedo il motivo per il quale non posso crescere a qualsiasi tipo di per la politica per la politica locale ma come me ce ne sono centinaia centinaia anche nel come diceva prima Castrataro i giovani soprattutto anche quelli del centrodestra non hanno niente di meno rispetto a uno meno anziano ci deve essere un giusto mix tra le forze nuove e le forze meno forze giovani e forze meno giovani solo così possiamo capire quali sono le esigenze nuove della cittadina e del Molise soprattutto e solo così possiamo far ripartire questo centrodestra se rimaniamo fermi ognuno sulle proprie posizioni e nessuno si assume le responsabilità perché io finora ho sentito solo a parlare di meriti io ho preso il 10% il 15% il 14% nessuno mai perde queste elezioni allora facciamoci un esame di conoscenza valutiamo che cosa si è verificato e cosa è successo la batossa è stata sonora perché è stata comunque inaspettata nel senso che tutti ci davano vincendi già dal primo turno i cittadini ci hanno fatto parlare la nostra presunzione la presunzione di tutti i partiti del centrodestra perché pensavano che si verificasse quello che si è verificato 5 anni 5 anni e mezzo fa cioè dove al ballottaggio addirittura il centro-sinistra non esiste proprio andiamo al ballottaggio un'altra volta due di centrodestra e poi si verificherà e vediamo che cosa succederà come 5 anni e mezzo fa invece il centro-sinistra ha carpito questo è stato bravo ed intelligente a recepire le istanze provenienti dai cittadini e ha messo su Castradaro ha costruito una bella figura Castradaro che poi ha vinto le elezioni da solo perché le ha vinte lui le elezioni di Senna sono state vinte da Piero Castradaro sicuramente non dal centro-sinistra e ora avrà le sue difficoltà io mi auguro di no perché verrà spinto comunque verrà triato dalla giacchetta dai partiti per questo quell'altro assessorato senza giacca quindi speriamo anche noi io non vedo Castradaro come un muro ma io lo vedo come un punto di partenza sperando che venga imitato anche dal centro-destra ma stanotte dormirà? no 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 ora sto dormendo di più diciamo dei giorni della campagna elettorale quindi anche perché ecco sono abbastanza tranquillo che poi la quadra ovviamente si deve trovare però colgo l'occasione per dire una cosa di cui sono fiero che è il fatto di alzare l'asticella credo che abbiamo dimostrato come coalizione in queste in questa elezione di dire se ti presenti bene se hai candidati giusti se non ti dividi se pensi che alcune cose vanno fatte al di là degli schieramenti l'elettorato che è un elettorato moderato sia quello di Serna sia quello di Uttel Molise ti premia ecco se la politica comincia a competere su questo livello secondo me ci guadagnano tutti i cittadini del Molise e di Serna cioè quello di alzare ogni volta l'asticella di farla sui programmi e sulle persone e molto meno sulle divisioni e sulle poltrone io vi ringrazio per aver accettato l'invito è stata una chiacchierata veramente che ha esulato dall'aspetto meramente politico quindi il tempo è veramente grazie a voi il tempo è volato siamo in conclusione ringrazio ancora i telespettatori per averci sin qui seguito ed i nostri ospiti buon proseguimento grazie a tutti